Corridoio per Ederossi, l'apertura per Perrotta, buono il movimento, Perrotta, in area di rigore, Perrotta, di testa, Totti, ancora, non è finito, Manzini in rete, rete, Roma in vantaggio. Grandissima azione di Perrotta che ancora una volta senza palla si è inserito ovviamente centralmente, anzi poi si è spaventato sulla destra, grandissimo il cross, ha aspettato un attimo, bravo Totti due volte, attrettanto bravo Guardalbe, ma poi Manzini ha battuto a botta sicura. Veramente un'azione da Roma come il primo di 15 minuti del primo tempo, è partita forte, imprensi, vedi centralmente palla a terra, poi si sposta sulla fascia, bellissimo il cross, lo aspetta, guarda centralmente, qui fa un miracolo insieme a Bresciano, ancora un miracolo, Guardalbe e poi Manzini batte imparabilmente. Grandissima azione della Roma. Splendile l'azione della Roma, il cross di Perrotta, Totti di testa, grande intervento di Cannavaro quasi sulla linea, ancora Cannavaro, ancora Guardalbe e poi il destro vincente di Manzini. Alla secondo minuto della ripresa si sblocca il risultato, Roma in vantaggio, sesto gol in questo campionato per Manzini. Totti, vuole il controllo, palla in verticale per Manzini, in area Manzini, Manzini, pallonetto, Manzini, rete, rete, il rottopio della Roma. Si trova una memoria, sicuramente Chivo ha tentato il lancio lungo, invece ha passato a Totti, sicuramente in posizione ottimale, ha stoppato, ha tenuto palla, buon inserimento ancora una volta, senza palla, dei tre quartisti che vanno nello spazio, bravissimo Manzini che è stato altrettanto bravo nell'aspettare Guardalbe e batterlo, vedi, più ovviamente la difesa non è ben allineata, più ovviamente poi Manzini fa un colpo da Brasiliano, bravissimo, nel pallonetto su Guardalbe, ma la giocata di Totti in verticale di prima, beh, quando lasci solo questi giocatori ti inventano. Probabilmente sorridono, davanti alla televisione anche Tony e Girardino che preconizzano assist a valanghe mondiali. Vabbè, Totti anche in condizioni precarie, però vedi, gioca di prima quando deve giocarla, poi in fase degli ultimi 25 metri, 20 metri, trova sempre, ovviamente la giocata è importante, qui la difesa non si è alzata molto bene, c'era mi sembra Cannavaro che teneva in posizione Manzini, però quando vai senza palla così negli spazi... L'apertura per Taddei, l'inserimento di Perrotta, velo, Totti, palla straordinaria, Perrotta in aria, pallonetto, rete, calcio straordinario! Questo è grande calcio, lo puoi dire Maurizio, veramente perché cambio di gioco, inserimento ancora senza palla, velo per Totti che di prima la mette ancora su Perrotta, grandissima, e se lo merita questo ragazzo perché secondo me Manzini aveva fatto due gol, ma lui era il migliore in campo perché ha fatto di tutto oggi Perrotta, è un gol straordinario, guarda il velo e va senza palla, lui di prima ovviamente senza guardare e qui anticipa il portiere. Beh, un gol così, c'è uno in studio che dice da manuale del calcio, penso lo posso dire anch'io. Allora, mettiamola così, quest'azione dice Totti da pallone d'oro per rotta da nazionale. Eh sì, veramente, ma tutto, vedi Tommasi che cambia gioco, già sanno quando ricevono palla come muoversi, in due o tre giocatori vanno senza palla, hanno sempre due o tre giocati, chi è in possesso appunto della sfera e questo ovviamente... Grazie. Grazie. Grazie.